Ciao, in questo video vedremo il funzionamento di un blocco particolare, il barrier block o blocco barriera. Questo blocco non si trova nell'inventario corrente, ma è molto utile nel momento in cui si volesse costringere o circoscrivere il raggio di azione di giocatori o mob. Vediamo insieme il funzionamento. Come vi dicevo, se io accedo all'inventario e digito barrier, non trovo il blocco che sto cercando. Per prendere il barrier block innanzitutto è necessario cliccare il tasto ESC, impostazioni e verificare che i nostri trucchi siano attivi, come in questo caso. Torno indietro in Minecraft, riprendo il gioco e clicco la lettera T, digito give, il nome del mio giocatore, marco V, barrier. Do invio, lo seleziono nell'inventario corrente e i blocchi barriera possono essere messi come qualunque altro blocco. La novità importante di questo blocco barriera è che quando io lo deseleziono dal mio inventario corrente, come in questo caso, magicamente scompare anche se mi accorgo che in effetti stanno nella posizione in cui li avevo posizionati. Guardiamolo adesso con questo effetto. Esistono ancora, ma io non riesco a vederli. Non appena io posiziono il mio selettore sul blocco barriera del mio inventario corrente, eccoli che compaiono. Questi blocchi barriera ovviamente possono tornare utili in queste situazioni qui. Guardate, io non riesco a uscire perché ho interamente ricoperto l'uscita di blocchi barriera. In questo modo sia giocatori che mobs non possono entrare, nuovamente come in questo caso. Quindi l'utilità di questi blocchi è quello di impedire il passaggio di giocatori e mobs, nascondendo ovviamente la presenza del blocco come in questo caso. Ok, spero che questo video vi possa tornare utile e ci vediamo al prossimo. Ciao.